Sono iniziate ufficialmente questa mattina le operazioni che porteranno alla rimozione della cabina della funivia precipitata qui al Mottarone. Le svolgeranno i vigili del fuoco che hanno allestito un campo base con un container che permetterà di conservare tutto il materiale che sarà necessario a questo intervento che sarà lungo e complesso e durerà diversi giorni, come ci ha spiegato il comandante provinciale. Da oggi insieme al pool dei periti valuteremo come approcciare la cabina, come metterla in sicurezza per poi procedere al taglio e successivamente alla sua imbragatura consolidare tutti gli elementi che faranno parte degli accertamenti, gli approfondimenti tecnici e successivamente faremo la fase finale, quella del volo, il prelevamento con l'elicottero e il suo trasporto. Avete una previsione? No, anche perché ancora non sappiamo quanti imprevisti troveremo, noi possiamo pianificare tante cose ma fino in fondo non si saprà mai cosa succederà. Anche oggi è una bella giornata ma non si sa neanche il meteo come sarà nei prossimi giorni, sicuramente entro fine mese l'operazione verrà portata a termine. Avete allestito una sorta di campo base per le operazioni? È un'operazione complessa che prevede l'uso di materiali e attrezzature particolari, le abbiamo fatte venire un container speciale per le ricerche USAR dal comando di Alessandria. Questa mattina intanto il professor De Luca che è a capo del collegio dei periti incaricati dal GIP nell'ambito dell'incidente probatorio ha tenuto una sorta di briefing con gli altri periti, gli avvocati presenti e il comandante dei vigili del fuoco per stabilire le prossime fasi operative saranno fissati dei pali ai quali sarà assicurata la cabina, la seconda fase sarà quella del scoperchiamento della cabina e poi del sezionamento sarà tagliata in due parti, la principale quella che maggiormente interessa alle indagini è quella attaccata alla testa fusa Dopodiché si potrà passare alla rimozione che avverrà tramite un elicottero, tutte fasi molto delicate, ovviamente i reperti non devono essere in alcun modo danneggiati saranno portati provvisoriamente alla stazione intermedia dell'Alpino e poi conservati in un capannone probabilmente potrebbero essere poi studiati e analizzati al Tecnoparco